Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui per presentarvi una nuova partnership come sapete settimana scorsa, circa due settimane fa, adesso non ricordo bene il momento, ma sono diventato partner di calcio a basso costo negozio online dove potete acquistare delle magliette da calcio bellissime a prezzi bassissimi oggi invece cambio un po' il genere, nel senso che oggi la partnership riguarda un altro ambiente totalmente diverso sono diventato partner di Infinity Mattoncini Infinity Mattoncini, il negozio di lego, sfuso e scatolato, che fisicamente presenta a Garvagnate Milanese via conciliazione 27, ma che online potete fare acquisti e far arrivare la merce in qualsiasi parte d'Italia e del mondo ragazzi, se siete in Alaska e volete dei mattoncini, chiamate Infinity Mattoncini e vi spedisce la merce troverete scatole come questa, ne prendo qualcuna, noto, questa, questa, ce ne ho qualche esempio qua c'erò insomma di scatole lego perché sono un appassionato ma attenzione la cosa bella di questo negozio è che potete trovare le scatole come quella ma anche, ma anche, come si dice, dei mattoncini, cioè sapete benissimo che la lego è un po' come un modellismo il modellismo fa parte della categoria modellismo, quindi la gente crea e inventa avete un edificio da creare, volete fare casa vostra, volete fare una macchina, volete fare quello che volete su Infinity Mattoncini troverete tutto il lego sfuso che volete, tutti i tipi di lego sfuso quindi avete bisogno di una ruota, trovate anche la ruota singola, trovate tutto singolo quindi sia scatola ma che tantissimo sfuso, tantissimo sfuso di tutta la qualità, tutti i tipi, tutti i colori potete sbizzarrirvi come volete, oltretutto viene anche le minifigure, per chi avesse bisogno di una minifigure può trovare la minifigure singola, ovviamente ho bisogno di, che ne so, della minifigure di Batman trovate la minifigure di Batman, ho bisogno della minifigure di Chewbacca, trovate la minifigure di Chewbacca trovate tutte le minifigure che volete la cosa importante è che adesso dopo questo video io vi lascio giù ovviamente sempre il link della pagina Facebook dove potete contattarli e ovviamente sotto ci sarà il codice sconto il codice sconto però sarà un po' diverso, nel senso che non sarà da applicare sul sito ma bisognerà dirlo o a voce o via messaggio in poche parole voi fate presente che arrivate lì perché avete visto il video di Fuori Rosa TV e avrete subito il 10% di sconto quindi o scrivete Fuori Rosa TV o andate a voce, dite che il video, avete visto il video di Fuori Rosa TV e avrete il 10% di sconto quindi vi ricordo ancora qui sotto troverete sia il link con il codice sconto per maglia e calcio a basso costo e sia il link con il codice sconto per infiniti mattoncini mi raccomando acquistate da uno e dall'altro perché sono due negozi due eccellenze ciao